Benvenuti ad una nuova puntata di Sexy Ricette di Daniele Doesn't Matter. Oggi vi insegnerò a fare il sexy risotto con caviale di basilico. Avete fame? Siete turcidi? Cominciamo! Per questa sexy ricetta avremo bisogno di Riso Carnaroli Porno basilico fresco Brodo vegetale bisex Parmigiano grattugiato Alginato di sodio Lattato di calcio Acqua Olio Cipolla tritata Un bicchiere di vino bianco Continuate a trastullarvi e partiamo! Fate sentire la barba alle foglie di basilico per emozionarlo. Quando avrà i brividi sulla pelle mettetelo nel frullatore. Se non si è bagnato abbastanza da solo aggiungete un bicchiere d'acqua. Frullatelo fino ad ottenere 125 millilitri di liquido. Ora aggiungete un grammo di alginato di sodio. Chi non ha dell'alginato di sodio a portata di mano in casa? Adesso mettete una musica sexy e frullate il tutto con il mini pimer. Mi raccomando, a rallentatore. Te amo, te siento, te amo, un hombre solo, veni con fuego dentro dell'alma che mando in la cama. L'euforia del basilico richiede riposo. Mettetelo nel frigo a raffreddare bollenti spiriti. Riprendete il frullatore e create i presupposti per una gangbang interracial. Mettendo dentro l'olio, il basilico e il parmigiano. Fatelo partire per un lungo viaggio orgasmico. Non scordate lo slow motion e la musica sexy. A questo punto della nostra pubertà prendiamo 250 millilitri d'acqua. Scioglieteci dentro 2 grammi di lattato di calcio. E pensate al vostro primo bacio. Ora siete pronti per svegliare dal suo riposo nel frigo il frullato di basilico e alginato. Prendete una pipetta. Avvicinatevi dolcemente. E cominciate a succhiare. Fate cadere delle piccole gocce nel bicchiere con il lattato. Stiamo assistendo al miracolo della vita. Non siete emozionati? Sciacquate in acqua i cuccioli di caviale di basilico. E poneteli in una ciotola. Ora concentriamoci sul riso. Scaldate l'olio nella padella. Quando è caldo aggiungete la cipolla e doratela. A questo punto aggiungete il riso e fatelo tostare. Ma non illudetelo. Non è ancora pronto per bruciare di passione. Quindi bagnatelo con il vino bianco e lasciatelo evaporare. Sento la vostra pelle d'oca fino qui. Ottimo. Adesso aggiungete il brodo fino ad ultimare la cottura del riso. Non vi preoccupate. Potete ingannare l'attesa guardando un videoporno. Ora non vi rimane che mantecare il riso con il frullato di basilico. La nostra sexy ricetta è giunta al termine. Non ci rimane che impiattarla. Ed eccolo qui. Il nostro sexy risotto con caviale di basilico. Adesso siete pronti per il massimo godimento del sapore. Fatemi sapere con un like se questa sexy ricetta vi è piaciuta. Se la rifate postate le foto su Instagram a cancelletto Matterchef taggando Doesn't Matter Pod. Potreste essere nel prossimo video. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie.